C'è anche un esponente delle forze armate rivoluzionarie colombiane nell'organizzazione smantellata dalla DDA di Reggio Calabria in collaborazione con i finanziari del GICO di Catanzaro, la polizia statunitense e quella spagnola. L'uomo, un comandante delle FARC, è ritenuto il fornitore di coca alle cosche calabresi. Era con loro che faceva i migliori affari rifornendo il mercato europeo di centinaia di chili di droga. Il narcotrafficante è stato identificato ma non è facile scovarlo perché opera proprio all'interno della foresta amazzonica dove dispone di basi operative e di un imponente apparato di sicurezza. La DEA è sulle sue tracce da molto tempo ma senza risultato, mentre sono 34 le persone affiliate all'Andrangheta e responsabili di un traffico internazionale di droga dalla Colombia. Traffico gestito dalle famiglie calabresi Alvaro e Pesce della Piana di Gioia Tauro e Coluccio Aquino della Locride, che avevano superato ogni rivalità per formare un cartello che gestiva carichi enormi di stupefacenti. I fratelli Alvaro, in particolare grazie ai numerosi contatti con operatori portuali, erano in grado di pianificare il recupero della droga ben nascosta nei container delle navi che attraccavano nei porti europei, compresi quelli italiani. Gli esponenti delle cosche erano radicati in Brasile, Argentina, Colombia, Montenegro, Spagna. La droga viaggiava dentro le barche a vela. Un anno fa la DEA e la polizia spagnola hanno abordato una barca al confine tra Spagna e Portogallo con 856 kg di cocaina destinata al mercato europeo. Sempre nel 2014 sono stati scoperti altri 725 kg di droga su un veliero a largo delle Canarie, destinati anche in questo caso all'Andrangheta. Sono state sequestrate in tutto 4 tonnellate di cocaina purissima che una volta lavorata e piazzata sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione oltre un milione di euro.